Siamo tornati in studio come sempre ancora ad Angoli, grazie per essere mia compagnia per chi non lo fosse stato puntuale dalle 19, vi ricordo ancora una volta che potete restare sempre in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo di posta, sempre lo stesso, sempre angoli-espansionetv.it Anche in questa seconda parte del nostro appuntamento con Angoli parliamo di spettacolo, parliamo di arte, di un progetto davvero davvero molto bello, tra poco poi entreremo anche nei contenuti nella trama, lo faremo con gli ospiti che sono qui e ringrazio Stefano Dragone, ciao Stefano che bello averti qui finalmente, tu sei attore, protagonista sarai in questo caso di questo film che si intitola Sei meglio di me Esatto E lì c'è tutto un mondo del quale poi parleremo, insieme a te c'è Luca Solina, ciao Luca, grazie per essere qua, tu invece regista, produttore, sceneggiatore, quindi insomma artefice di tutto quello che poi andremo a vedere Quindi partiamo proprio da qui, intanto le riprese se non sbaglio sono anche già iniziate? Le riprese sono già iniziate, abbiamo iniziato lo scorso fine settimana con le prime due giornate di ripresa, abbiamo ancora altri giorni davanti a noi, diciamo che concluderemo entro la fine del mese di giugno e porteremo a termine tutte le riprese, inizierà subito la post produzione I set tra l'altro mi pare si snodino tra Milano, Bollate e Como, quindi anche la nostra città direttamente interessata Anzi, Como è stata la città della giornata di apertura delle riprese, il primo giorno abbiamo girato proprio qui, era una zona più verso la montagna che guardava direttamente sul lago, abbiamo girato le prime scene del film Poi ci siamo spostati nella zona di Bollate, dove c'è la nostra location principale, Bollate è poco fuori Milano, vicino all'Expo per intenderci E nei prossimi weekend gireremo anche in Milano città, dove sono previste alcune scene in un importante studio musicale e andremo a concludere lì le nostre riprese Ma veniamo alla storia, allora Stefano io davvero sono rimasta colpita, mi è piaciuto tantissimo, te l'ho detto appunto prima di iniziare questa nostra chiacchierata con il nostro pubblico che ci segue Perché è davvero uno spaccato della realtà, di situazioni che insomma tutti i giorni sentiamo la storia di un uomo, di un giovane uomo Che si è realizzato però poi intorno a sé a tutta una serie di figure femminili Esatto, esatto, il protagonista è un uomo ma in realtà poi la figura femminile la fa veramente da padrone Perché ci sono queste sei donne che ruotano intorno a Renato, che è proprio il protagonista, che è un paroliere Lui scrive canzoni, ha scritto due dischi di successo per una cantante che si chiama Zelina Il terzo purtroppo è andato molto male perché lei ha voluto mettere becco nei suoi testi E adesso deve scrivere il disco del loro riscatto, quindi deve avere successo per forza Quindi difficilissimo, una responsabilità importante Molto, il problema qual è? Che oltre a questo la sua vita privata non va benissimo E' un po' complicata in effetti, è Luca che ne dici, è abbastanza complessa Quali altre figure gravitano intorno appunto a Renato? Ci sono appunto queste sei donne, una è questa Zelina che è la cantante Un'altra è Alessia che è la sua coinquilina della quale lui è segretamente innamorato Un'altra donna è Teresa che è la sua terapista perché lui cerca di andare in terapia per rimuovere questo blocco Ritrovare la sua ispirazione, poi abbiamo... C'è anche la figlia perché poi c'è la figlia Virginia La figlia Virginia, esatto, che ha avuto giovanissimo quando aveva 15 anni Che ha un rapporto pessimo con lui C'è la madre di questa figlia con la quale ha un altro rapporto per nulla felice Disastroso, disastroso E poi c'è Cecilia che è una ragazza che conosce su Tinder, in internet Per cercare di sbloccarsi e avere delle relazioni, diciamo Forse normali chi lo sa Quindi Luca che dire, davvero c'è tutto il mondo dei nostri giorni Perché innanzitutto queste relazioni virtuali, poi di successo o meno non lo sappiamo Vedremo Lo vedrete Appunto La relazione invece reale, precedente con la mamma di questa figlia Quindi rapporti familiari un po' complessi La coinquilina perché insomma spesso si deve dividere l'abitazione con qualcuno Vorrei già immagino di tutti coloro che ci stanno seguendo Quanti magari in una di queste situazioni in qualche maniera si trovano Ecco, come vi è venuta in mente questa trama? Nel senso, avete guardato la realtà e avete detto raccontiamola o com'è nata? Ma no, in realtà è nato tutto dal personaggio di Renato E mi piaceva l'idea che ci fosse un solo personaggio sempre in scena con altri che gli giravano intorno E mi piaceva l'idea che fosse lui l'unico personaggio maschile Anche per dare un po' l'idea di quanto in realtà nella nostra vita quotidiana Noi uomini, le donne siano importanti in realtà E quanto anche indirettamente senza farci la morale, la lezione Invece ci aiutino a prendere le nostre decisioni, a trovare la nostra strada Perché questo è un altro aspetto importante Alla fine questo Renato bombardato da tutte queste situazioni deve anche prendere delle decisioni Deve prendere delle decisioni molto molto importanti Non solo per sé ma anche per alcune di queste donne che girano intorno a lui Per esempio sua figlia che è molto giovane Che sta passando una situazione non proprio semplice E sarà proprio lei la figura chiave che aiuterà Renato a rinascere Come dice il nome stesso Certo, quindi figure femminili e anche attrici che gravitano appunto in questo progetto Ce ne parli? Sì, 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 è stato veramente un piacere insieme a Stefano fare il casting Hanno risposto numerose tra l'altro Da tutte le parti d'Italia Mi ha fatto molto piacere vedere che in giro ci sono veramente tantissime bravissime attrici Che purtroppo fanno molta fatica a trovare dei ruoli in cui possono esprimersi Un po' per stereotipi, un po' per difficoltà produttive E invece siamo stati contenti di aver fatto le nostre scelte Che sono ricadute su sei attrici veramente bravissime Due sono di Roma, due sono di Milano Ce ne sono altre che sono nella zona sempre della Lombardia Adesso non mi ricordo precisamente le loro città di provenienza Ma sono veramente molto in gamba E ognuna nel suo ruolo Ognuna nel suo ruolo abbiamo cercato di privilegiare soprattutto la loro bravura Prima ancora della figura, del personaggio che ci serviva Certo Stefano, quindi com'è stato il tuo approccio insomma Da attore soprattutto con queste tue figure femminili che ti graviteranno intorno Ma allora la premessa è che io ho già tre donne in casa Quindi poi sei abituato Partivo avvantaggiato I rapporti femminili diciamo che li conosco bene Qui sono sei, non sono tre Però diciamo che quello che ho cercato di fare io come lavoro è portare proprio la mia vita all'interno di questa storia Il bello del lavoro dell'attore è quello di vivere tantissime vite diverse perché puoi interpretare personaggi diversi Questo è più bello o è più complicato? Ma entrambe le cose Le cose più complicate poi sappiamo che sono quelle che ci appassionano Quindi quando c'è la passione sono cose belle Quindi ho cercato appunto di portare un ponte tra la mia vita e la storia di questo personaggio Ma come dicevi non stiamo raccontando chissà che cosa È una storia che magari vissuta su sei personaggi diversi l'abbiamo concentrata su uno Ma sono cose che sono all'ordine del giorno E che credo poi sia di fatto la scelta vincente voi che siete appunto gli esperti Perché comunque anche nel momento in cui ci troviamo davanti a una proiezione cinematografica A parer mio parlo ovviamente del mio gusto personale Quello che poi davvero ci affascina e ci fa seguire la storia È laddove si raccontano i fatti quotidiani Le cose che magari conosciamo bene o che stiamo vivendo Più magari di altre situazioni fantastiche o fantasiose Quindi credo che raccontare la vita sia forse la cosa più difficile ma anche più bella da fare Che dite? Sì sì sono d'accordo Tra l'altro per me questa è un po' una scommessa Perché io invece vengo da una serie di lavori che sono tutti sulla fantasia E quindi come mai questa scelta diversa? Un po' per sfida personale perché è la mia prima commedia in assoluto Non ho mai scritto commedia prima di questa E un po' anche perché forse prima non avevo abbastanza maturità e esperienza di vita personale Per riuscire a poterla descrivere Il famoso detto si scrive solo di ciò di cui si conosce Ed è vero? Ed è abbastanza vero E anche per quanto ti riguarda insomma l'hai detto prima Tu già è una vita tua dove le donne ti stanno intorno e quindi è stato più facile Sarà più facile per te? È stato più facile certo sicuramente sì Poi insomma in questo ambiente si hanno molte possibilità di lavorare con tante attricce diverse Quindi avere delle esperienze professionali e personali da portare poi sul set o sul palcoscenico A seconda che uno faccia teatro o faccia cinema Ecco tu di fatto l'hai citato mi hai rubato insomma l'incipit della prossima domanda Di fatto hai una lunghissima esperienza anche teatrale di tante esperienze Quindi insomma sei un attore assolutamente formato in quello che è il tuo percorso E quindi arrivi a questa esperienza con lui che per la prima volta si approccia a una commedia E tu dai del tuo Sì io do del mio La mia esperienza è prettamente teatrale Arrivo da 15 anni di esperienza teatrale Da 3 o 4 anni invece mi sto dedicando più al cinema E' il secondo lavoro che facciamo insieme a Luca Quindi abbiamo già una collaborazione rodata A volte basta uno sguardo per capirsi o ci anticipiamo Messaggi o mail su che cosa vogliamo Quindi siete molto sulla stessa lunghezza Anche la troupe che lavora con noi ha già lavorato in precedenza su altri progetti Quindi tutta gente giovane che fa il suo lavoro bene Quindi è bello anche stare sul set C'è anche un altro aspetto interessante di questo progetto Perché c'è una campagna di crowdfunding Chi me ne parla? Sì, te ne parlo io per il semplice fatto che l'ho organizzata E' disponibile sul sito produzionidalbasso.com La possibilità per chiunque voglia di darci una mano nella seconda fase del progetto Quindi non nella sua produzione, nella sua realizzazione Ma nella sua diffusione al pubblico Abbiamo dei contatti distributivi che ci daranno una mano a raggiungere i cinema Ma sarebbe bello che fosse possibile fare prima delle presentazioni, degli eventi, delle serate premiere Certo Dal singolo Blu-ray del film in assoluta anteprima Fino addirittura arrivare, se le donazioni sono più consistenti Addirittura mezza giornata a disposizione sul set durante le riprese Per vedere un po' come... Flash è davvero Flash è sfidante Sfidante Nel senso che è molto variegata Il livello si sta molto alzando Anche se sembra il contrario ma non è vero E si diffonde una voce falsa Il cinema italiano non è morto per niente Anzi Anzi Assolutamente Quindi bellissima notizia Stefano invece a te in chiusura Che cosa ti aspetti da questa esperienza? Mi aspetto sicuramente di poter raccogliere un'ottima esperienza personale mia Come prova di attore Perché è un lungometraggio Quindi non è una sitcom, non è una web series È un prodotto molto lungo e molto complesso C'è tanto lavoro da fare prima C'è molto lavoro da fare sul set E poi ci toccherà la post-produzione per vedere i risultati di questo film Che cosa ne esce Una cosa che ci tengo a dire alla fine Che noi siamo partiti da Como Ma torneremo a Como Ci sbilanciamo Abbiamo diverse possibilità per organizzare una prima divisione qui a Como Quindi poi quando il prodotto sarà finito Allora ne ripariamo Allora vi aspetto assolutamente Adesso siamo davvero molto molto curiosi E questo sei meglio di me Ora insomma non vediamo l'ora di capire che cosa ci porterà insomma davanti agli occhi Quindi davvero grazie a Stefano Dragone Grazie a Luca Solina Grazie per questa bellissima idea Per essere venuti qui a raccontarla E a questo punto ci rivediamo A presto A presto Grazie Grazie anche a voi per essere stati come ogni sera in mia compagnia Rimanete lì tra poco Arrivano i colleghi dell'informazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti